Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e lui è il mio compagno di viaggio Roberto. Se avete visto l'ultimo video sapete che siamo a Maragas e il programma di oggi è quello di interratti con degli amici per andare alla spa e fare un trattamento tipico, marocchino. E poi nel pomeriggio abbiamo un evento, una festa in piscina e vi porteremo con noi. Adesso aspettiamo il taxi e così parte. Nell'attesa del taxi cerchiamo di dare un po' di contesto a questo video. Siamo arrivati a Marrakesh ieri, se avete visto l'altro video sapete già com'è andata, se non l'avete visto andatelo a vedere. Adesso siamo qui nel giardino del nostro hotel, di fronte a questa splendida piscina. Com'è la temperatura, Roby, qui a Marrakesh? Pensavo peggio, quando veniamo dal Salento qui è molto secco, 9 e mezza, sta benissimo. Anche perché sembra che il sole sia un po' coperto da una strana poschia. Poschia, sì. Sembra di essere all'interno di Cologhi. Siamo arrivati al Berdy Country Club, un posto incredibile. È qui che avremo la spalla con i nostri amici. Sei pronto per rinassarti? Pronto. Con un massaggio tradizionale marocchino. Questo posto è immenso. Siamo appena usciti dalla spa, purtroppo non ho potuto portare l'acopro all'interno. Bellissimo. Abbiamo fatto il trattamento Aman, uno scrub con una sorta di carta vetrata che si pulita la pelle. Massaggio rilassante, total body, 30 minuti. Il miglior massaggio mai fatto. Adesso siamo qui sempre al Berdy. Stiamo ordinando qualcosa da mangiare. Prima di rientrare in hotel, prepararci e andare in piscina a casa, alla villa del nostro amico. Non so quanto ci costa questo piatto. Sono le 17, no, le 18? No, le 17.30. Non ho cambiato l'orario. Io sì. Questo è il nostro terzo e mezzo della giornata e siamo andati in crescendo. Guardate qui. Call of Duty livello 3. Stiamo dirigendo alla villa del nostro amico per una festa in piscina che precede il matrimonio di domani. Niente alcol. Solo musica e diversi occhi di frutta. Non fьтеagazzi. Alla squadre ro endlich è stupolazione del nostro amico. Wow, signori, questo è l'amico ricco, vogliamo dire ai nostri amici a casa quanto hai speso per questo gioiellino? 5.000 euro al giorno, ma seriamente? Sì, veramente. Sono 2.000 euro alla settimana, quante persone? Siamo in 10. Grazie. Hanno abbandonato lo sposo, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.